non possa non tenere in debito conto di che cosa sta accadendo proprio in questi ultimi mesi sulla materia del riconoscimento della genitorialità ai fini dell'iscrizione dei registri dello Stato civile di bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso facendo ricorsi a pratiche vietate dal nostro ordinamento anche penalmente e che tali dovrebbero rimanere. Quindi in primis la gestazione per altri, la cosiddetta maternità surrogata e a tecniche parimenti non consentite in base alla registrazione nazionale a coppie dello stesso sesso qual è la procreazione medicalmente assistita eterologa. Ebbene anche questa prospettiva rischia di tradire un'impostazione chiaramente adultocentrica lontana ed in parte in conflitto con il principio del superiore interesse del bambino convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996. Dunque se il divieto di gestazione per altri presente nel nostro ordinamento va fatto rispettare in termini concreti evitando che il ricorso a tali pratiche all'estero si traduca poi con il ritorno in Italia del minore in un continuo aggiramento di un divieto che nel nostro ordinamento è volto a preservare valori fondamentali quali innanzitutto la dignità della donna e del bambino ridotti a meri oggetti.